No ai fuochi pericolosi. Nell'ambito delle iniziative di educazione alla legalità promosse dall'amministrazione comunale del sindaco Pietro Pentangelo, nel presso delle scuole medie di Corbara, si è tenuto un incontro per illustrare i rischi connessi all'uso dei botti natalizi. Gli artificieri del comando provinciale Carabinieri di Salerno hanno incontrato gli alunni per sensibilizzarli, anche attraverso la visione di video ed immagini di repertorio, sui rischi legati all'utilizzo improprio dei fuochi e dei botti natalizi. Spesso i ragazzi non conoscono le conseguenze, i rischi connessi all'utilizzo dei botti, soprattutto quelli illegali, quindi è necessario questo incontro per fargli vedere materialmente, da chi tutti i giorni si occupa della materia, cosa accade a chi utilizza in modo improprio o utilizza i botti illegali. Non solo quelli pericolosi, ma anche quelli in commercio che potrebbero essere utilizzati hanno dei rischi che possono provocare ferite, danni, perché se non maneggiati come devono essere maneggiati. Infatti le regole da seguire sono poche ma fondamentali. Acquistare i fuochi da chi ne è titolare alla vendita, seguire le indicazioni che sono poste sui fuochi stessi per il corretto utilizzo, seguire queste poche regole scritte, le regole di normale utilizzo di questi fuochi può aiutare a salvare la vita dei ragazzi e di chi ci sta attorno, ma soprattutto evitare che possano condizionare la loro funzionalità fisica per tutta la vita.